Siamo noi, siamo noi, siamo noi, i miei fiori dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi. Allora sono con Stefano, Stefano noi siamo qui a festeggiare adesso un ristorante, ho scoperto parlando con gli altri, che tu sei il tifoso più lontano. Bene sì, vengo dall'Abruzzo, dalla provincia di Pescara. Ecco la domanda è l'obbligo, come mai una persona come te, cioè da così lontano, si è appassionato della Yamamai? I motivi sono tanti, la prima cosa è la passione per il volley che mi spinge a seguire la vallavolo femminile un po' per tutta Italia da ormai da anni e poi un'amicizia che dura ormai da 2-3 anni con Giulia Pisani che ho conosciuto ai tempi del Club Italia e quindi lo... Sai che è un po' pazza? Sì, è un gemelli come me, quindi siamo nati lo stesso giorno. Tu presumo verrai solo nelle partite più importanti? Ho fatto alcune trasferte di busto vicino alla mia regione e poi questa finale Scudetto che non potevo assolutamente perdere. Cioè praticamente tu vieni su con il treno, stai qui magari un giorno o due? Sì, quando ho fatto le trasferte nelle Marche a Pesaro e Urbino sono venuto con la macchina, in questo caso sono venuto con il treno, ho fatto 6 ore, 6 ore e mezzo di viaggio e ripartirò domani mattina dopo aver festeggiato. Complimenti, ma nella sua regione non ci sono squadre ad un certo livello? Troppo no, nel Sud Italia le squadre principali sono, diciamo, si fermano in Serie A, si fermano nelle Marche, quindi Pesaro, Urbino, una volta c'era Iesi, c'era Santeramo, in Abruzzo diciamo ci fermiamo la Serie B1. Bene, complimenti e buon rientro a casa. Grazie, è sempre Forza Busto. Grazie.